Musica Hola amico e benvenuti in questo nuovo episodio di Asphalt 8 Airborne Allora scusate se questi giorni non è uscito nessun video di Asphalt 8 Ma come sapete il mio canale è principalmente di Minecraft e quindi io carico un video ogni 3 giorni E in questo tempo ho caricato altri video quindi non ho potuto caricare video di Asphalt Intanto durante questo tempo che non ho fatto video su questo gioco Oltre alla Lamborghini, l'evento della Lamborghini egoista che di solito compare qua E' uscita un'altra macchina, non mi ricordo qual era, dovrebbe essere una o qualche Peugeot Comunque quando sono andato a fare tutta quanta la serie Tipo Laboratorio 1, Laboratorio 2 e Laboratorio 3 Alla fine del terzo laboratorio, cioè l'ultima gara Che dovevo fare spendendo questi ultimi 64 oggettoni Mi sono addormentato e ho perso la macchina Cioè una settimana di gare Ho fatto tipo sempre le due la notte per riuscire a finire questa cazzo di macchina Arrivo all'ultima gara e mi adormento, muoio Vabbè, lasciamo stare Intanto poi è uscito anche un altro, è uscito un evento su internet Che, vi ricordate l'aggiornamento che era stata fatta? Che ti regalavano un'auto se avevi fatto un evento? Beh, l'hanno regalato lo stesso Cioè ho fatto quell'evento, un altro evento che è uscito ultimi, questi giorni E facilissimo, basta che partecipavi a una gara per 5 giorni di fila E praticamente ti regalavano quest'auto E io l'ho vinta Mi sembra che era la Mercedes qualcosa Vabbè, comunque Questo episodio sarà uno un po' particolare Perché andiamo a fare le gare dell'ultima stagione che è stata aggiunta Come avete visto nello scorso episodio Se non l'avete visto andrò a vedere E però queste le gare le farò con una musica di sottofondo E le velocizzerò Quindi se vi piace questo nuovo modo di fare le gare Scrivetelo nei commenti E inoltre aggiungete nei commenti Hashtag io ti seguo Perché se no io faccio un altro video di Asphalt E poi chiudo la serie Per continuare soltanto con Clash of Lords e Minecraft Inoltre vi invito a vedere anche lo scorso video che ho caricato Quello dei 240 iscritti Perché è molto carino È fatto da un mio cugino DJ Luciano E questo è Quindi adesso andiamo a vincere queste gare Bene, partiamo E already E ora Raun E ora E ora Salmi E ora Dani Scrivete E ora Di Grazie B anti Voila Via Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, spero che queste 5 ore vi siano piaciute. Vi ricordo di lasciare in descrizione hashtag ti seguo perché se no ricordo che nella prossima vi darò il ciao ciao per questa serie. Ok, allora lasciate un video, lasciate un video, lasciate un like, iscrivetevi, condividete per farmi conoscere a più persone, vi ricordo che mi potete seguire anche su la pagina Facebook e Twitter che trovate in descrizione e anche Google+. Ci vediamo nel prossima, ci vediamo nel prossima. Grazie a tutti.